È una bella città Senigallia, è bella d'estate quando la sua spiaggia di Velluto richiama migliaia di turisti, è bella in questo periodo speciale quando si veste a festa pur mantenendo il suo stile sobrio ma sempre suggestivo ed accogliente, ulteriormente arricchito dalla miriade di appuntamenti che caratterizzano il calendario di iniziative e manifestazioni Un Mare di Natale. Tante iniziative per questo Natale che hanno coinvolto tutto il nostro tessuto, le associazioni, le nostre attività, i nostri commercianti, i nostri cori e penso che non con lo sfarzo, non con l'eccesso ma tanta pulizia e sobrietà. Per un Natale che esalti i nostri luoghi e i nostri contesti. Un calendario che anche in questo periodo natalizio ha coinvolto le più diverse espressioni del tessuto sociale cittadino, con l'amministrazione che ha ancora fatto squadra con le associazioni culturali, sportive, del volontariato, del sociale, quelle di categoria, che hanno partecipato direttamente ai tavoli di programmazione di Un Mare di Natale. Da qui è nato un cartellone ricco ed emozionante, dalla stagione concertistica alle rappresentazioni teatrali alla Fenice, le esibizioni delle corali cittadine nel cuore del centro storico, fino agli allestimenti, laboratori ed animazioni per i bambini e le famiglie. Con le eleganti luminarie a ravvivare le vie della città di lungo corso, il grande albero in piazza Saffi, ma anche gli alberi di classe addobbati dai bambini delle scuole senigalliesi con l'organizzazione di Confcommercio. Di grande interesse le mostre, dalla realtà ingannata di Ferroni, Giacomelli, Salvalaia, Palazzo del Duca, ha salvati dal terremoto con le opere d'arte provenienti dalle chiese terremotate alla Pinacoteca diocesana, il presepe senigalliese alla Chiesa della Croce e alla Sala Expo Ex per l'organizzazione della Proloco Senigallia-Spiaggia di Velluto, la Maratona Fotografica, la tredicesima edizione di Fotografando il Natale e l'esposizione La Gioia dei Presepi. Per i più giovani è tornato l'appuntamento con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, sempre molto frequentata nel Giardino della Rocca Roveresca, dove quest'anno è stata posizionata anche la casetta di Babbo Natale, pronto a ricevere le letterine dei più piccoli. Una tradizione anche quella dei caratteristici mercatini di Natale, a cura di confartigianato, nelle vie Oberdan, Chiostergi e Solferino, il mercatino Christmas Art & Market dell'Associazione Lima, in Piazza del Duca, dove ha trovato posto anche il mercato bio a cura della terra e il cielo. Senigallia anche in questa stagione ha voluto mettersi in vista e soprattutto ha voluto offrire attraverso la collaborazione con le categorie economiche della città, attraverso anche la condivisione con le associazioni culturali, sportive e anche di volontariato, ha voluto offrire un centro storico animato, bello, pieno di fragranze e di profumi, anche grazie ai mercatini della Confartigianato e anche del mercato bio, che per ormai il decimo anno si presenta in Piazza del Duca, in questa piazza centralissima della città. E poi la simpatica caratteristica della città della spiaggia di Velluto, quella dei suoi Babbi Natale, grazie alla collaborazione e dalla disponibilità mostrata anche dalle società sportive cittadine, li abbiamo visti in vesti decisamente insolite con le racchette del badminton, di corsa con l'atletica Senigallia, in bastoncini con il Nordic Walking, in pattini con il Team Roller, in moto a cura del Motoclub e ancora una volta con l'originale tradizione dei Babbi Natale in soup, che partendo dalla rotonda mare e risalendo il fiume Misa, hanno attraversato il centro storico cittadino seguiti da centinaia di persone. Abbiamo voluto coinvolgere le associazioni con l'organizzazione di tanti momenti legati chiaramente al Natale, che è il periodo forte sicuramente per la nascita di Gesù, ma anche e soprattutto perché è un momento sentito da tanti bambini che aspettano i regali e l'arrivo soprattutto di Babbo Natale. Quindi qui, grazie alla genialità e anche alla creatività delle nostre associazioni, abbiamo organizzato tante iniziative con i Babbi Natali. La città sarà invasa di Babbi Natali, ormai per il quarto anno sicuramente quelli più particolari saranno quelli che arriveranno dal mare, quindi Babbi Natali in soup attraverso queste tavolette daranno davvero tanta gioia a tante persone che li aspetteranno, ma soprattutto poi tutti i regali saranno consegnati ad associazioni di beneficenza e quindi ci sarà la doppia finalità anche per queste iniziative. Fino all'Epifania ancora tanti gli appuntamenti in programma, domani è a Santo Stefano, il canto di Natale al Teatro Nuovo Melograno, sempre martedì 26, il concerto del complesso bandistico Città di Senigallia, alle 18 all'Auditorium San Rocco, giovedì 28 dicembre un grande appuntamento al Teatro La Fenice con Antonio Albanese in personaggi. E poi una serata dell'ultimo dell'anno veramente ricchissima. Alla Fenice con lo schiaccianoci del St. Petersburg Classical Ballet Tradition, alla Rotonda Mare con il New Year's Eve Party del Winter Jamboree e soprattutto con la gran festa di Capodanno che scatterà alle 23 in piazza del Duca con la musica live della band The Ones che farà ballare migliaia di persone con i grandi successi dei Beatles e del beat italiano anni 60. Uno straordinario videomapping show sulla rock roveresca firmato da Luca Gnani, uno tra gli artisti più appezzati del settore in campo internazionale, mentre alla mezzanotte il passaggio all'anno nuovo sarà segnato dai fuochi d'artificio con uno spettacolo pirotecnico di grande suggestione. Ormai abbiamo abituato i nostri concittadini, i nostri visitatori, i nostri turisti a momenti importanti per chiudere un anno nella nostra città. Quest'anno gli abbiamo posto particolare attenzione. I fuochi alla rocca, il videomapping su quella struttura, musica bella da compagno dalle 22 fino alle 2 di notte e i nostri luoghi, la piazza del Duca. A chiudere le feste il giorno dell'Epifania in programma alle 17, il corteo dei Magi da Piazza Roma alla Chiesa della Croce e dalle 21 al Teatro La Fenice il concerto per il nuovo anno dell'orchestra filarmonica marchigiana con la partecipazione di Federico Mondelci, sax solista. Infine, per tutta la durata delle festività, utilizzando l'app Maicicero, sarà anche più economico parcheggiare, con uno sconto del 50% sulle tariffe normalmente in vigore.